Gentili telespettatori, buona giornata. Si è svolto a Firenze il corteo antifa. Vi piace così, come lo dico? Va bene, una manifestazione contro il governo, tacciato di essere praticamente un qualcosa che arriva dagli anni venti del secolo scorso. Quindi in questa manifestazione si vuole difendere la Costituzione che nessuno sta attaccando, si vuole difendere la scuola e nessuno ce l'ha con la scuola, si vuole difendere la società che nessuno è contro la società. Insomma, diciamo che in questa manifestazione si vogliono vedere cose. Ecco, una manifestazione che riunisce Conte, Schleini, sindacati, bandiere rosse del Partito Comunista, proprio PC, Partito Comunista, e magliette contro un qualcosa che è solo immaginario. Cioè loro, piuttosto che riunirsi, non lo so, negli uffici parlamentari per fare un'alleanza, per parlare di temi del paese importante, loro si riuniscono in piazza a fare le manifestazioni contro il governo. E qui si vede proprio la distorsione di quello che significa l'opposizione. Opposizione. Certo, il nome opposizione potrebbe essere sostituito anche in minoranza. C'è la maggioranza e c'è la minoranza. Ecco, forse bisognerebbe dire a Conte, Schleini, guardate, lasciate perdere il termine opposizione perché non avete capito che cosa sia l'opposizione. Utilizzate il termine minoranza. Ecco, forse così riuscite un po' a ridimensionarvi con il termine minoranza. C'è la maggioranza e la minoranza. Opposizione, loro che cosa hanno capito? Secondo loro, opposizione significa opporsi, dice la parola stessa, chi è che fa opposizione? Quello che si oppone. Quindi tu ti devi opporre a qualcun altro, devi contrastare. Invece l'opposizione, che è democrazia, dovrebbe servire in una democrazia per valutare quello che fa il governo. Dire, beh, questo l'ha fatto bene. Questo non lo so. Questo l'ha fatto male. Ecco, l'opposizione è una sorta di... Nel paese dovrebbe essere una sorta di sentinella. Ecco, per la difesa della democrazia. Quindi l'opposizione vigila che tutto sia correttamente democratico. Ma se tu, invece, intendi l'opposizione come dire tu sei un pericolo e io faccio le manifestazioni con le bandiere del Partito Comunista e canto bella ciao, allora non ci siamo, no? E allora non ci siamo. L'opposizione è una sorta di arbitro che guarda e vigila cosa fa il governo. Ma non è che devi dire che il governo è antidemocratico e fare la manifestazione con le bandiere come se voi foste contro il governo. Fare opposizioni non significa essere contro il governo, perché essere contro il governo del paese significa essere contro il paese perché c'è un governo eletto dalla maggioranza degli italiani quindi bisogna avere rispetto per la maggioranza degli italiani che hanno votato questo governo che sta governando il paese, sta facendo le cose per gli italiani. E voi direte, ma quelle cose a me non piacciono. E dovevi vincere le elezioni. Se vincevi le elezioni potrevi fare le cose che piacevano a te. Adesso devi stare a guardare e vigilare, ma non devi andare contro il governo, perché il compito dell'opposizione non è andare contro, è aiutare il governo, vigilare, dire guarda che secondo me è sbagliato, ma andare contro significa andare contro gli italiani. E poi si dice, no, ma guarda che la sinistra mica è un'area politica anti-italiani. E io ogni volta vi dimostro, come in questo caso, che fare delle manifestazioni e con l'idea di essere contro, ostacolare, fronteggiare il governo del paese, è eletto democraticamente, parlando di fantomatici nemici che non esistono, i nostalgici che non esistono, questo vuol dire andare contro il paese, quindi vuol dire essere anti-italiani. Fare quella manifestazione a Firenze, di non so quante persone, non significa aver fatto chissà quale cosa di bene per il paese. andare in piazza contro il governo, perché? Per difendere la Costituzione, ma il governo non sta facendo nulla contro la Costituzione, no, no, è per difenderlo per la scuola, ma il governo non è contro la scuola, e allora è per difendere gli italiani dai fascisti. Ma non ci sono, non ci sono più da 75 anni, non esistono più, c'è qualcuno che fa qualche saluto romano, grottesco, fuori dal tempo, ma quelli ci saranno sempre, come ci sono quelli che ascoltano l'inno dell'Unione Sovietica, lì, quelli dei sindacati che ascoltano l'inno dell'Unione Sovietica, sono delle macchiette da operetta, da teatro tardo-romano, tardo-gotico, i personaggi da operetta ci saranno sempre nella destra e nella sinistra, ma dopo che i sindacati hanno fatto sentire l'inno dell'Unione Sovietica, il centrodestra non ha organizzato una manifestazione con 50.000 persone con le bandiere della Costituzione per frenare lo stalinismo che arriva, perché sarebbe una sciocchezza, non sarebbe vero, non si possono prendere degli esempi di alcune persone e parlare di pericolo per l'Italia, perché è una cosa grottesca, è una cosa sempliciotta, infantile, le immagini di quella manifestazione dove questi leader sono lì, tutti esaltati, risaltati tra ali di folle con le bandiere, è una buffonata. Dice, ma scusi professore, ma le manifestazioni è un diritto democratico? Sì, è un diritto, ma posso dire che è una buffonata? Non perché io voglia impedire una manifestazione, ci mancherebbe altro, però Conte e Lashlein che si abbracciano con Landini che fa la comparsa lì vicino con le bandiere rosse e il corteo antifa, fa ridere, capite che fa ridere? Fate un corteo per il salario minimo, fate un corteo per una proposta di legge, vogliamo il super bonus a vita, fatelo, è nel vostro diritto, ma la manifestazione antifa, fa ridere, arrivederci a tutti e grazie.